Ciao mio caro amico aspirante trader professionista e profittevole Oggi è martedì 26 novembre 2019 e permetti di mostrarti i tre profittevoli che ho fatto durante l'apertura londinesi sul crude oil e durante l'apertura pitusa sulle SP Mini 500 Bene, questo è il manche profali al crude oil di ieri lunedì Ieri abbiamo avuto come vedi una giornata a ribasso che ha rotto sotto il minimo pitusa di venerdì e poi la giornata è andata a rialzo In questo scenario c'era questa linea magenta tratteggiata a un livello molto importante Durante l'Asia session il mercato era dentro il range pitusa di ieri e il prezzo era a questo livello qua In questo scenario, all'apertura londinese io non ho fatto altro che posizionare 5 contratti pendenti buy Perché? Perché praticamente sul footprint a 30 minuti ho visto subito all'apertura 3 buy in balance qui Quindi mi sono detto perché no, non prendermi dalla value area low dell'apertura almeno fino al POC della sessione overnight che era qua, la sessione asiatica Bene, il mercato mi esegue Ho messo lo stop loss strutturale sotto il minimo overnight della sessione asiatica Il mio primo target con 4 contratti sulla linea tratteggiata nera che è il POC della sessione asiatica overnight L'ultimo target su quel livello importante da assad ho fatto vedere, ovvero quella linea tratteggiata magenta Bene, il mercato dopo la mia entry come vedi è rimasto un attimino qui e poi il mercato è andato dritto dopo il secondo minuto della mia entry a target Questo è il footprint, come vedi Ci sono big buy in balance La testimonianza del mio ragionamento era giusto Il mercato mi prende i primi 4 target A questo punto muovo il mio stop loss a break even più 1 e il mercato purtroppo fa un pullback e mi stoppa in 3 in stop profit Il primo 3 profit e uno importa 170$ di profitto Adesso ti faccio vedere il secondo trade sempre in continuazione long sul crude oil Probabilmente posiziono 5 ordini pendenti buy su questo pullback proprio perché qua c'erano questi 4 stacked big buy in balance che erano quindi il più importante supporto dinamico per il momento del mercato Il mercato mi esegue il mio ordine Il mio target di nuovo è sulla linea tratteggiata nera il POC della sessione overnight asiatica L'ultimo target sulla linea tratteggiata magenta all'importante livello d'asta di ieri del crude oil Lo stop loss era di nuovo strutturale sotto il minimo della sessione asiatica Il mercato arriva per un tick non mi prende il mio target fa un pullback ma poi ecco che smart buyers entrano ancora e il mercato mi va dritto a prendermi 4 ordini a questo punto muovo il mio stop loss da qua sotto per chi mi è più 1 poi il mercato purtroppo manca in volatilità al rialzo quindi fa un pullback mi stoppa in 3 in stop profit e i primi 2-3 profittevoli su crude oil mi portano un profitto di 300$ adesso ti mostro la situazione sull'SP500 di ieri ieri abbiamo avuto una forte giornata a rialzo praticamente il POC è a rialzo c'è questa linea magenta che è un livello importante per oggi durante la sessione asiatica il mercato ha rotto violentemente a rialzo e durante la long non session il mercato è rimasto dentro il range e fuori dal range bituso di ieri parte dal modo che stavamo aprendo intorno al massimo pituso di ieri bene all'apertura dopo questa veloce vendita proprio un tic sopra il massimo pituso di ieri io posiziono 5 ordini pendenti buy su questa linea rossa sottile vedi che è un nodo di bassi volumi preso dal market profile della sessione overnight qua bene perché? perché vedi Mekat ha fatto questo veloce pullback fino a questa linea magenta l'importante livello di ieri di asta c'è un bellissimo sequenza decline nel footprint bene sapevo che a questo punto smart buyers erano entrati da questo livello dalla valore a low al rialzo bene il mio stop strutturale sopra l'osso strutturale era un tic sotto il minimo assoluto dell'apertura pitusa il mio target come vedi via ho sbagliato a mettere questo target il mio target era un tic sotto la linea rossa la valore a high di ieri bene mi accato dopo la mia entry mi va dritto a target e that's it questo è tutto che l'ho fatto oggi totale 5.50 ora mio se anche devo datare in questo modo fare anche meglio di me nel mercato dei fiusi e delle azioni di opzioni allora scrivi la sua storia adesso e mandami un link sotto a questo video io ti auguro grazie grossi e succosi profitti alla prossima sessione di trading ciao dal mighty ci vediamo domani